Chiedono l'intervento dell'Unione Europea per salvare Taranto. Sono i componenti dell'Associazione Genitori Tarantini che hanno inviato una lettera ai vertici della Commissione Europea per raccontare dell'inquinamento provocato dal siderurgico Alba Di Palo. Chiediamo come l'Europa Unita possa rimanere insensibile di fronte alle sofferenze di bambini che si ammalano, soffrono e in molti casi muoiono per emissioni altamente inquinanti. E' quanto si legge nella lettera che i componenti dell'Associazione Genitori Tarantini hanno inviato alla Presidente della Commissione Europea Ursula Vorderreien, al suo vice Franz Timmermans e al Commissario Europeo per l'Ambiente Virginius Sinchevicius, a cui sono state inoltrate le foto delle emissioni inquinanti provocate dall'acciaieria. Scatti che raccontano come la città da diverse angolazioni sia sovrastata da fumi di colore scuro. I componenti dell'Associazione chiedono ai vertici dell'Unione Europea come si possa accettare la continua minaccia all'ambiente da parte di una mostruosa fabbrica di veleni, scrivono, ricordando che non solo lo Stato italiano non ha dato seguito alla condanna inflitta dalla Corte Europea dei Diritti Umani che ordinava di rendere esecutivo nel più breve tempo possibile il piano ambientale approvato dalle autorità nazionali, ma che è anche entrato in società con la multinazionale franco-indiana Arcelor Mittal con un esborso di denaro pubblico pari a oltre un miliardo di euro, raggiungendo un accordo che prevede, tra le altre cose, un incremento della produzione di carbone fino a oltre 6 milioni di tonnellati all'anno, in netto contrasto con la dichiarata intenzione della Comunità Europea di abbattere in modo significativo le emissioni di CO2 nei prossimi anni. Per l'associazione è necessario chiarire da parte dell'Unione Europea se davvero Taranto è in quell'Europa democratica, unita e moderna di cui tutti parlano e che tutti apprezzano e se tutto l'acciaio del mondo non vale la vita di un solo bambino.